Ciao a tutti, benvenuti, bentornati sul canale. Io sono Linda, oggi in questo video vi mostro l'agenda del docente che ho scelto per quest'anno scolastico 2022-2023. Perché faccio questo video? Perché qualcuno di voi ha visto le mie storie su Instagram, ma anche forse qualcosa su Facebook e mi ha chiesto di mostrare l'agenda o comunque le motivazioni che mi hanno spinto a scegliere questa agenda che ora vi mostro. In realtà devo dire che ci sono tantissime possibilità di scelta perché ormai ci sono tantissime maestre e colleghe che decidono di mettersi in campo nel fare proprio delle aziende su misura per gli insegnanti di diversi ordini di scuola. Però io alla fine di quest'anno ho scelto più o meno la stessa dello scorso anno. Devo dire che anch'io avevo provato a costruire l'agenda che fa per me, perché credo sempre che sia quella perfetta, non quella che ci facciamo con le nostre mani, però non ho fatto in tempo e quindi la tengo da parte per un altro momento, forse chissà, per condividerla per l'anno prossimo. Ma intanto ho scelto questa, che è l'agenda del docente di maestra Giulia, che per me è un bis perché lo scorso anno avevo questa. Soltanto la differenza, guardate, questa è la giornaliera, ovviamente è usatissima, c'è qualche foglietto dentro, questa è la settimanale. Quest'anno ho scelto di misurarmi con la settimanale per avere meno spessore, ma anche per provare e cercare di capire se lo spazio che avrò a disposizione può andar bene per la mia tipologia di appunti o di quello che appunto mi serve, anche perché come molti di voi sanno io poi integro con altri supporti organizzativi. Perché ho scelto questa agenda? Innanzitutto la copertina è bellissima, quindi maestra Giulia, stupenda. Era bella anche questa, devo dire, però vabbè questa proprio mi ha conquistato. Poi l'interno che potete vedere sul sito di maestra Giulia o potete trovare anche i riferimenti nella sua pagina Instagram, nel suo profilo Instagram, l'interno, stavo dicendo, è uguale per tutte e due le agende, la giornaliera e la settimanale, salvo ovviamente la scansione della settimana, perché qui nell'agenda settimanale ci abbiamo una settimana su due pagine, mentre nell'agenda giornaliera c'è un foglio per pagina, quindi se apro la pagina, trovarne una vuota adesso non sarà facile, ma se vado alle vacanze di Natale, sì. E quindi ci avremo un giorno di qua e un giorno di qua. Io adesso qui vi ho aperto un giorno durante le vacanze di Natale, quindi è vuoto, ma devo dire che l'ho usato tantissimo, perché l'anno scorso, tra l'altro con la prima, ho scritto tutto, ho programmato tutto, ho scritto nel dettaglio la scansione della mia attività didattica quotidiana, quindi quella andava benissimo, però ho visto che anche in questa agenda dove, ripeto, c'è la settimana su due pagine, ogni volta che inizia la settimana, quindi prima, c'è sempre una doppia pagina, eccola qua, di appunti, puntinata, quindi va benissimo sia per chi ama le righe che per chi ama i quadretti e credo che questo possa bastare per tutti i miei appunti e le mie mille annotazioni. Cosa c'è all'interno? Ripeto, potete vedere tutta l'agenda sfogliata sul sito di Maestra Giulia, se siete ancora fra quelli che devono comprarla, ma vi dico molto rapidamente che c'è il calendario scolastico, ci stanno le pagine dedicate agli impegni di tutto l'anno, poi c'è ogni volta che inizia il mese, ce n'è una per, guardate, per esempio settembre, io ancora devo personalizzarla, c'è una parte con le cose da fare, qualcosa da ricordare, eccetera, trovate sempre un QR code che vi porta a contenuti extra che trovate poi sul sito di Maestra Giulia. c'è una scansione delle giornate mondiali, sempre col QR code in fondo in modo da poter avere dei contenuti extra e poi c'è, prima di iniziare appunto il mese, questo planner riepilogativo di tutto il mese dove si possono segnare gli impegni. Quindi trovate pagine per segnare i compleanni dei bambini, pagine per i conti, poi ci sono tutti i planner annuali, le attività e le riunioni, trovate anche il registro voti, quindi tutte le caselline per mettere i voti, diciamo una sorta di brutta copia prima di passarli sul registro elettronico oppure per farli entrambi. Quindi io credo che questo possa essere, diciamo, questa agenda possa essere utile per me. Ho scelto la copertina morbida per essere un po' più leggera in borsa, ma anche l'altra sarebbe stata veramente bellissima. Se volete vedere nel dettaglio l'interno potete andare su maestragiulia.net e lì trovate tutto il contenuto, ovviamente filmato in maniera decisamente migliore di come posso fare io. Questa è stata la mia scelta per quest'anno. Andrà bene, lo sapremo solo vivendo alla fine dell'anno scolastico, ma poi vedremo. Intanto io comunque so che potrò integrare con i miei planner le varie settimane che mi stampo regolarmente, creo regolarmente io, per le mie esigenze che talvolta anche condivido sui miei canali. Quindi penso che potrebbe essere utile, potrebbe essere sicuramente abbastanza per me. Se non dovesse passarmi, ritornerò alla giornaliera. Intanto spero che questo video possa esservi stato utile. Vi ringrazio per averlo visto fino in fondo, vi do appuntamento al prossimo e vi saluto, ciao!